Parchi dell'Emilia Romagna, la natura che non ti aspetti. Parchi dell'Emilia Romagna, la natura che non ti aspetti. Qui siamo a San Paolo in Alpe, siamo vicino al paese di Corniolo, siamo nel cuore del versante romagnolo del Parco Nazionale e stiamo guardando verso le antiche foreste casentinesi, quindi la foresta di Campigna, la riserva integrale di Sassofrattino e oltre la foresta della Lama. Questo è un posto particolarmente bello, panoramico perché siamo vicino alle foreste ma siamo in un luogo molto aperto. Il parco ha queste due anime, un po' la versante toscana e il versante romagnolo. Noi da sempre lo raccontiamo come un unico territorio. Ultimamente abbiamo ideato e progettato un percorso, un sentiero che lo attraversa proprio nella sua parte più alta, nella parte del crinale e l'abbiamo chiamato il sentiero delle foreste sacre. Per richiamare due termini molto importanti, uno che sono appunto le foreste, che dà il senso della grande naturalità di questi boschi. L'altro invece sacre perché questi territori sono intrisi di una storia più che millenaria, perché vi sono all'interno importanti riferimenti. Però c'è anche un discorso di integrazione con quello che è l'alta via dei parchi, praticamente, di cui la parte delle foreste casentinesi è una, non dico integrazione importante, però è un lembo importante. Sì, noi stiamo collaborando moltissimo con la regione Emilia Romagna, sia su questi progetti della biodiversità, ma anche e soprattutto per questo percorso. L'Emilia Romagna ha ideato quest'alta via, molto bella, che si chiama l'alta via dei parchi, che unisce il parco nazionale del Tosca Emiliano nel Reggiano fino al nostro qua, nella parte più meridionale. E nell'ultimo tratto di questo percorso, che è lungo più di 300 chilometri, quindi un percorso da fare in tante tappe, l'ultimo tratto di quasi 100 chilometri è dentro il parco nazionale delle foreste casentinesi e diventa il sentiero delle foreste sacre. Ecco, tra l'altro qui abbiamo, sia su un versante che sull'altro, anche Laverna e Camaldoli, che sono riferimenti importantissimi non solo per la religiosità, ma anche per quello che rappresentano da un punto di vista storico. Oscar Bandini è studioso proprio dell'etnografia del parco, ma anche di questa millenaria storia che mette insieme natura e genti del territorio. Rispetto a questa sacralità, che possiamo dire? Beh, intanto Laverna e Camaldoli sono i due punti di eccellenza. Noi da romagnoli non li consideriamo toscani, sono universali, sono due punti fondamentali, ovviamente di religiosità e di spiritualità. Ma soprattutto sono stati un punto di riferimento culturale per queste genti di Romagna, perché molti hanno studiato a Camaldoli e molti ancora romagnoli sono monaci nell'eramo di Camaldoli. Questo è un legame che va oltre il nome storico di Camaldoli della Verna. Però anche qui abbiamo, questo era un antico eramo dedicato a Sant'Agostino, di cui vediamo ancora i ruderi, ma tutto il territorio del parco, sia nel versante romagnolo che toscano, sono disseminati di maestà, di luoghi di fede a partire dall'eramo di Gamogna, ma sono luoghi di vita. Questi erano luoghi fino ai primi anni 50, primi anni 60, vissuti. Qui c'era l'allevamento, c'era un'agricoltura molto povera, non erano luoghi ovviamente poetici, erano luoghi di fatica. E lo dimostrano anche i ruderi di questo fabbricato, che è un rudere, come vedete, molto basso e lungo, perché qui il vento la fa da padrone tutto l'anno. Anche oggi. Quindi quando tagliavano l'erba e il fieno, insomma, lo dovevano riporre immediatamente, insomma. Ecco, lei ha fatto proprio anche un libro, oltre che uno studio, Le scuole rurali della Penino Romagnolo, il caso di San Paolo in Alpe. San Paolo in Alpe, di qui non si vede il fabbricato, qui a Campodonato, che è nel versante di Corniolo, c'era ovviamente una pluriclasse, ma c'erano 20-30 bambini. Naturalmente andavano a scuola da novembre in poi, quando avevano finito la raccolta delle castagne, e le maestre di Forlì o di Meldo di Cesena che venivano, primo in carico, quando arrivavano piangevano e quando andavano via piangevano. Prima piangevano perché trovarsi qui, insomma, lungo le mulattiere, insegnare in queste case, queste piccole scuole, insomma, buie, fredde e umide, insomma, non era un impatto dolce con il mondo del lavoro, però quando andavano via l'ospitalità e l'umanità di queste persone li aveva colpite, per cui abbandonavano malvolentieri questi posti. Però intanto Marco Mencucci, CTA, Corpo Forestale dello Stato, quindi tutto quello che riguarda territorio, ambiente... E sorveglianza del parco. E sorveglianza del parco che mi sembra importante. Tra l'altro, pensando solo agli animali che ci sono qua, che ci sono addirittura cinque specie di ungulati, cinghiale, capriolo, daino, cervo, mufflone, quindi, insomma, anche questo è un tema. Quindi il vostro ruolo, ma soprattutto quali sono le competenze, quello che mettete a disposizione per valorizzare, diciamo, gli aspetti ambientali, ma anche monitorare quella che è la vita di questi animali all'interno del parco? Il Corpo Forestale svolge sorveglianza nei parchi nazionali per legge, 19 sono i parchi nazionali in cui c'è un ufficio del Corpo Forestale specifico per la sorveglianza. Nel caso delle foreste casentinesi, del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, il nostro ruolo è quello di supporto sia anche tecnico-informativo al parco e forniamo, diciamo così, una rete di informazioni sul territorio che può essere in qualche modo collezionata per determinati obiettivi, fra cui quello del monitoraggio fanistico e ambientale. Quindi forniamo, ad esempio, informazioni circa la presenza e assenza degli ungulati maggiori attraverso reticoli di avvistamento, scensimenti ed anche il monitoraggio dei predatori, in particolare del predatore principale che vive in quest'area e che è il lupo. Ecco, e che tra l'altro si è tornato a fare vivo un po' di più da un punto di vista di quantità o sbaglio? È stato oggetto in tutto l'arco appenninico di un'evoluzione particolarmente forte dopo guerra in poi. Questo ha fatto sì che si sono ricreati degli ambienti naturali con la ripresa della vegetazione forestale, con la ripresa, diciamo così, anche delle popolazioni animali che piano piano sono ritornate a occupare questi territori e quando tornano le prede, prima o poi torna anche il lupo. Io la ringrazio molto, so che lei ha anche uno strumento particolare con cui misura esattamente l'altezza degli alberi, quindi io vi lascio lavorare perché è questo qua praticamente, insomma, che ritroviamo. D'altra parte qua di esemplari ce ne sono davvero tantissimi. Laggiù, in lontananza, si vedono queste foreste molto belle, molto naturali, in particolare il verde scuro è caratterizzato dalla presenza dell'abete bianco, che è una pianta che è proprio tipica di queste foreste e lo si vede, proprio nelle immagini, si vede il verde chiaro che è il faggio punteggiato da queste macchie scure che è l'abete bianco. Questo qui è il bosco misto di faggio e abete bianco. Poi si vedono anche delle chiazze più intense, molto scure, che sono le abettine pure, che sono molto note in questo parco, come esempio l'abettina di Campigni e l'abettina di Camaldoli, che sono caratterizzate dalla presenza solo dell'abete bianco. E siamo ridiscesi a pochi chilometri da Corniolo di Santa Sofia, siamo all'interno del giardino botanico di Val Bonella, 700 metri di altezza, inaugurato nel 1983, che comprende 300 specie native, tre percorsi tematici, foresta, zone umide, campi, però insomma di questi aspetti ne parleremo tra un po', perché qui a Farci Compagnia c'è Luca Rossi, consigliere dell'ente parco, perché in effetti noi abbiamo fatto un giro, escursioni, abbiamo raccontato il parco attraverso immagine, un dato è certo al di là della sua bellezza, il fatto che è estremamente vasto e quindi comprende un sacco di comuni, di territori e anche di realtà e comunità locali. E quindi com'è possibile riuscire a coinvolgere tutti? Guardi, da quest'anno noi nella gestione del parco e dei centri visita del parco, che sono ovviamente la prima immagine che si presenta al turista, abbiamo cercato di coinvolgere direttamente e responsabilizzare i comuni, i sindaci e le amministrazioni comunali. In questo senso si tenderà a fare un programma di iniziative culturali, di escursioni, di iniziative divulgative, in collaborazione con la realtà locale dove si trova, per poter far vivere il parco non solo per l'ambiente che è, ma anche per le persone che ci vivono, che ci lavorano tutti i giorni. E quindi un bel sistema che metta in rete anche le attività, non so, penso all'aspetto diciamo monumentale turistico, ma penso anche all'aspetto enogastronomico, che oggi non guasta mai. Esatto, certamente. L'obiettivo è proprio questo, proporre un prodotto turistico che non sia solamente legato all'escursionismo classico e di qualità, ma un prodotto turistico dove, legato all'escursionismo, ci sia la riscoperta degli antichi borghi, delle pievi, delle antiche pievi dei nostri centri, ma anche la scoperta, la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Qui da noi abbiamo dei prodotti DOP eccezionali, basta pensare alla bovina romagnola per ciò che riguarda il versante romagnolo, ma la stessa chianina per il versante toscano. Oltre al fatto abbiamo un presidio slow food, il presidio del ravigiolo, che è un formaggio particolare e specifico delle nostre zone. Ecco, il tutto vuole portare, come dicevo prima, a una maggiore integrazione tra le popolazioni, le attività produttive e la natura. Questo è l'obiettivo dell'ente parco. Il parco non è solamente una riserva naturale dove nessuno ci può entrare, il parco deve essere vissuto nel rispetto della natura, offrendo una possibilità di vita alle popolazioni e alle attività che all'interno del parco ancora esistono. Questo è il parco 2010, però voi avete già in progetto, ad esempio, di realizzare un nuovo marchio, che tra l'altro possa comprendere tutte le strategie che dicevamo prima. Difatti, l'obiettivo che ci poniamo, assieme all'ufficio di direzione del parco, è proprio quello di creare il marchio del parco nazionale delle foreste casentinesi. Un marchio di qualità che possa rispecchiare, oltre alla qualità ambientale del parco, i prodotti che si coltivano, che si producono all'interno del parco nazionale, ma non solo quello, ma non solo quello, possa essere questo marchio un marchio di qualità per le nostre attività ricettive e turistiche, in modo tale che possa servire come valore aggiunto alla già grande offerta turistica che c'è nel nostro parco. Allora, Luca, lei ci accompagni, perché qui vediamo invece altri nostri amici, insomma, Nevio Agostini, che ha fatto il giro insieme a noi ad essere discese, ci ha anticipato, perché in effetti voi anche state mettendo a punto dei sistemi e degli strumenti che non sono solo di accoglienza, ma sono in qualche modo caratteristici per fare capire meglio a chi viene qui in visita, dai bambini alle famiglie, quali sono le specie da cui sono circondati, in particolare all'interno qui del giardino botanico di Valbonella, ma girando un pochino anche per altre stazioni del parco. Che strumento è, cosa fa, come si fa soprattutto? Beh, noi cerchiamo di trovare le maniere anche più geniali per far conoscere la biodiversità a tutti e dato che oggi è possibile, con questi strumenti moderni che sono dei piccoli computer, anche dei cellulari di ultima generazione, avere tutta la biodiversità a livello di immagini e allora insieme con l'Università di Trieste è stato messo a punto un sistema per interagire con la biodiversità. Praticamente, nel caso di questo, delle piante, della flora, è possibile attraverso un sistema di domande molto semplici che si basa sul riconoscimento di quello che si vede, quindi il colore del fiore, la forma delle foglie, di arrivare a riconoscere la pianta, a identificarla soprattutto. E considerate che ci sono qualcosa come 1.100 specie di piante all'interno del parco, con questo sistema in pochi minuti si riesce a riconoscere e identificarle. Ecco, tra l'altro vogliamo ricordare anche che questo palmare per il riconoscimento delle piante può essere scaricabile direttamente dal sito internet del parco, ma noi adesso ci siamo avventurati per un'altra tappa, abbiamo raggiunto proprio le foreste, queste abetà e meravigliose di campina e facciamo un incontro altrettanto meraviglioso. Sono Katia e Mimì, Katia la mamma, Mimì è la figlia, ma sono due asine splendide per fare trekking in mezzo al parco. Sì, esattamente, l'associazione degli amici dell'asino si occupa appunto proprio di questo, di proporre dei trekking someggiati per adulti e bambini all'interno del parco nazionale in compagnia di questi asinelli che meritano una riscoperta, per farli conoscere ai ragazzi e per fare uno scursionismo lento, consapevole, che questo parco merita. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento ritorna con altre sorprese, anche perché gireremo altri parchi la prossima settimana. Buona passeggiata! Parchi dell'Emilia Romagna, la natura che non ti aspetti! Parchi dell'Emilia Romagna, la natura che non ti aspetti! Grazie a tutti.